Ciao ragazze! Il trucco di oggi è ispirato al make-up che indossava Federica Nargi nella puntata di Si può fare in cui doveva eseguire la prova di flamenco quindi aveva questo occhio molto allungato, il rossetto rosso, insomma era entrata proprio nei panni di una ballerina di flamenco a lei sta veramente veramente da Dio perché lei ha un occhio nocciola molto bello poi ce l'ha molto aperto, la palpebra molto aperta non come la mia che è un po' cadente e quindi non risulta per niente volgare e è stupendo secondo me, è anche molto elegante su di me sta un po' meno meglio, diciamo, non sta proprio benissimo perché comunque già i capelli rossi, quindi già fanno molto impatto poi ho appena fatto la tinta, quindi ancora di più e poi non ho l'occhio come il suo comunque spero che vi piaccia, che possiate prendere spunto da questo tutorial e vi lascio proprio al tutorial inizio applicando su tutto il viso un siero massaggiandolo dall'interno verso l'esterno è più leggero rispetto a una crema quindi per il momento utilizzo questo poi come base per l'ombretto applico un fondotinta lo picchietto prima col pennello e poi lo sfumo con i polpastrelli ovviamente se volete che il trucco duri di più ho applicato, mi raccomando, un primer poi definisco le mie sopracciglia più che altro le coloro per farle sembrare un po' più rosse con questo marroncino caldo, molto caldo adesso prendo un ombretto color panna e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare poi faccio un mix tra due ombretti un marrone più chiaro e un marrone più scuro e con un pennello da sfumatura sfumo l'ombretto su tutta la piega dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno ora prendo un color nude rosato e lo applico come base per la palpebra mobile picchiettandolo bene adesso prendo questa sorta di marroncino tortora e lo sfumo leggermente solo nella parte esterna della palpebra e con un pennellino a penna definisco così il mio sguardo e il mio occhio e do tridimensionalità adesso prendo un pezzetto di scotch dopo aver eliminato un po' di colla pressandolo un po' sulla pelle della mano lo applico nell'occhio vicino all'occhio in questo modo la mia linea di matita verrà molto molto più definita proprio come la sua seguo così il contorno dopodiché posso anche eliminare lo scotch dopo aver fatto la mia linea guida ovviamente questo qua è un trucchetto per le meno esperte chi già ha la mano ferma e ben dritta può fare anche a meno però comunque è sempre utile e poi traccio con la matita una linea che parte proprio dall'interno dell'occhio verso l'esterno ovviamente proseguo con dei piccoli trattini quindi tratteggio mano a mano la palpebra facendo diventare la linea più precisa possibile passaggio dopo passaggio controllo sempre aprendo l'occhio e chiudendolo a che punto sono e come sta procedendo il lavoro e riempio bene tutti gli spazietti a questo punto applico la matita anche nella rima interna inferiore e superiore e faccio sbordare anche un po' la matita verso l'esterno in modo che poi posso andare a sfumarla con un pennellino come faccio qui? allora qui intanto sfumo e delineo la matita con un pennellino pulito perché c'è già tantissimo prodotto sulla palpebra e in questo caso nella parte esterna superiore dell'occhio la sfumo veramente qui sto facendo sbordare un po' la matita e la sto sfumando come vedete nella parte superiore esterna è ben sfumata la matita però accentuo questa sfumatura con un pennellino a penna e un ombretto nero opaco perché lei proprio in questa parte dell'occhio ha una sorta di sfumatura non è più proprio matita netta ovviamente col suo occhio sta benissimo quindi se avete un occhio come il suo fatelo pure e adesso devo ridefinire un po' tutto il trucco ripetendo i passaggi precedenti quindi applico l'ombretto nude su tutta la palpebra ripasso un pochino di marroncino nella piega dell'occhio e alla fine riprendo la matita per fare questa volta però una linea definita e sottile ora prendo un ombretto color panna e lo applico solo nella parte interna dell'occhio per fare un punto luce e lo sfumo anche un pochino verso l'esterno passiamo ora al fondotinta questo è il mio solito trucchetto che vedete in moltissimi video per eliminare l'ombretto caduto sulla palpebra e definire ancora meglio la matita che ho applicato applico il fondotinta con una spugnetta di queste angolate e lo picchietto bene dopodichè passo il fondotinta sul resto del viso e faccio quindi la mia base come al solito applicando per la cipria adesso piego le ciglia e passo tanto 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 mascara se avete le ciglia finte ancora meglio io non le metto perché a me la colla crea sensibilità all'occhio quindi mi irrita un po' anche se la colla buonissima io uso solo la duo però non so come mai mi irrita quindi io uso sempre solo il mascara senza ciglia finte ed ora passiamo al trucco del viso come al solito mi ero dimenticata di filmare quindi vi faccio rivedere un po' i passaggi alla buona metto un po' di terra sotto i zigomi all'esterno del viso e un po' sotto la mascella poi prendo un blush rosato e lo applico sulle gote ed infine prendo il mio solito illuminante della Inglot un ombretto illuminante e lo applico con questo pennellino sui zigomi sul dorso del naso mente e fronte e ora siamo pronti per fare le nostre labbra rosse mi raccomando se volete vedere come si fanno precisamente le labbra rosse o comunque come ottenere labbra volumizzate come applicare rossette e tutto c'è un video specifico a cui vi rimando fatto benissimo quindi andate a guardare quello comunque qui contorno le labbra dopo averle contornate sfumo un pochino la matita verso l'esterno vabbè a questo parlando e poi alla fine applico il rossetto rosso come vedete procedo per piccoli tratti ed ecco il risultato finito spero che il trucco vi sia piaciuto come al solito se vi è piaciuto ricordatevi di cliccare mi piace e fatemi sapere in un commento cosa ne pensate e iscrivervi al mio canale se ancora non vi siete iscritti vi mando un bacio ciao muah muah